Buongiorno, oggi vi porto alla festa delle due ruote. Come vedete inizia molto presto, sono le 6 e un quarto. Siamo qui in sede a caricare tutta la roba da portare alla festa. Siamo già belli caldi, adesso carichiamo la roba. Scappare! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora, oggi siamo alla festa delle due ruote. Il tempo non ci aiuta, ma noi cercheremo comunque di divertirci uguale. Adesso vi porto a vedere un po' di motocicletta. Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.